Meno male che tutto va bene, meno male, meno male, bellissima! Meno male che tutto va bene, ma certo ragazzi, va tutto bene, va tutto bene! Siamo in un mondo fantastico, è globalizzato, hai capito? Siamo nel nuovo millennio, è una roba fantastica, cosa vuol dire? Vuol dire che eleggono Biden a Washington e sbocciano a cinisello balsamo! Draghi giura a Roma e a Sissi Nati, non gliene frega un cazzo a nessuno! Questo è il mondo globale che viviamo oggi, va tutto bene Massimo, ma che cazzo ce ne frega noi di occuparci di queste cose? Chi se ne importa? Tanto una volta all'anno ci danno il nostro metadone! Ci danno Fiorello una volta all'anno? Noi siamo contenti, qualche richiamo di Pio e Amedeo ogni tanto? E noi siamo felici, cazzo che bravi! Faccio quanto fa ridere Fiorello, Sanremo, mica Sanremo! Una volta all'anno e noi ci campiamo tutto l'anno! Noi comici ci facciamo battute, la gente ne parla per mesi! Ora, anche se non lo guardi Sanremo, in realtà lo stai guardando! Io quest'anno, giuro, in controtendenza con me stesso, io ho deciso di guardare Sanremo! Perché ho detto, io devo appoggiare il mio settore, cioè i lavoratori dello spettacolo, che comunque qualcuno di loro sta lavorando a Sanremo, cazzo io, come lavoratore dello spettacolo devo essere solidale e guardare! Non ce l'ho fatta! No, non ce l'ho fatta! Ho tradito la mia prevenza, non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Però quest'anno, come non mai, io avevo gente che mi chiedeva se guardassi Sanremo! Cioè, se avessi visto Sanremo, ma non la settimana dopo, finito, no? L'hai visto Sanremo? No, l'ho visto un giorno dopo! Mi chiedevano giorno per giorno! Il mercoledì mattino! L'hai visto? Ieri sera Sanremo! No, no, non l'ho visto! No, perché il martedì tengo una classe, ho una classe, sul monologo comico, e arrivo a casa tardi, non so che dura fino a tardi, però vedere i programmi iniziati non mi piace, quindi non l'ho guardato! Ma il mercoledì l'avrei visto? Il mercoledì! Allora il mercoledì! A parte stasera che comunque lo sto registrando, ci ho ritirato fuori il videoregistratore, perché il mercoledì per me è sapro, perché il mercoledì su Tor Crime c'è Law and Order Special Victims Unit, per brevità, Law and Order, Svù! Io sono un grande appassionato di Law and Order Svù, non me ne perdo la puntata, mi piace tantissimo, mi piace la disivoltura con la quale viene usata la parola sperma, è fantastico, sembra di stare a Palazzo Grazioli con la lampada di Wood, cioè spermo ovunque, una cosa meravigliosa, con una nonchalance bellissima, ci sono questi assassini che prima cazzo vengono ovunque nella stanza, trovano lo sperma, c'è un po' di sperma sul soffitto, ma che cazzo ha fatto? Comunque, bellissimo, mi piace moltissimo Law and Order Svù! Quindi mercoledì non l'ho guardato, non mi ropetta il cazzo, giovedì, giovedì avevo un appuntamento precedente, con chi? Con me, mi ero dato un appuntamento e non me la sono sentita di tirarmi il patto perché poi ci rimango male, mi tengo i musi, è una brutta situazione, se la dici veloce ci credo, beh beh ma cazzo, venerdì l'avrai visto, venerdì qua, venerdì fa quando non posso perché venerdì io ho la riunione dei giocatori anonimi, peraltro ci devo sottolineare che per noi Sanremo ha tutto un altro significato, quindi, beh ma sabato la finalona l'avrai vista, cazzo sabato ero libero, sabato ero libero, e allora hai visto, no non l'ho visto perché mi ero perso le altre puntate, non ci avrei capito un cazzo, quindi l'ho rinunciato, sono rimasto sul divano con la mia compagna, tutto sesso, abbiamo guardato il video con i comici, col pubblico.